Rendere visitabili tutti i forti rivani e in particolare quelli sul Brione, inserendoli nel sentiero della pace. È questo l'ambizioso progetto che l'amministrazione rivana ha deciso di portare a termine. L'obiettivo è quello di valorizzare gli ambienti, ora degradati dal tempo e dall'abbandono, mettendoli in mostra in percorsi storico-culturali, testimonianza di un passato che non deve essere dimenticato. I lavori sono stati assegnati attraverso apposito bando alla ditta Bronzini Luca e CSAS di Rovereto per aprire nuove stanze all'interno del Forte Garda sul Brione, spazi che potranno diventare oggetto di mostre a tema e quindi movimentare interesse storico da parte della popolazione alto-gardesana e non solo. Si torna a investire sul Forte Garda, il più grande e tecnologico tra i forti dell'Alto Garda. Fu realizzato tra il 1904 e il 1907 in calcestruzzo armato ed era capace di ospitare fino a 200 uomini. L'assessore ai lavori pubblici, Alessio Zanoni, anticipa che l'investimento non si concluderà con questo secondo intervento e per il centenario del prossimo anno sono stati inseriti nel bilancio di previsione in vista di approvazione ulteriori 150.000 euro per andare a rendere visitabili altre parti del Forte.